Ciao a tutti, io sono Fricco e bentornati sul mio canale per questo nuovo episodio su Stalker Shadow of Chernobyl. Allora, sto ridendo perché questi due stanno parlando da mezz'ora e io sto cercando di, appunto, iniziare il video. E niente, qua abbiamo buttato le... Ok, allontaniamoci qua, abbiamo buttato le nostre armi. Cosa dobbiamo fare adesso? Dobbiamo andare da seri per avere informazioni su Stalker. Poi dobbiamo rubare documenti militari che... Non so se farlo a questo punto. Tranquilli, eh, non starei cercando di registrare un video io qua. Ma stai scherzando? Cosa sta succedendo? Ok, facciamo così, andiamo da seri. E poi, dopo che andiamo da seri, sicuramente ci faranno andare di qua. E prenderemo anche la missione dei documenti. Facciamo così. Ora, là ci sono radiazioni. Quindi passare di là è fuori discussione. Ricordiamoci che qua ci sono le armi, se dovessero servirci soldi. La webcam oggi sembra avere colori abbastanza decenti. Stavo controllando, sì. Quindi, tutto sommato, abbiamo incominciato meglio dell'altra volta. Aspetta, c'è qualcuno che sta sparando di là. Nemici, eh? Nemici, eh? Cosa c'è in faccia? Che è luminoso. Ma non ce l'hanno con me, spero. Con chi ce l'avete, signori? Eh no, ce l'hanno con me. Come ti permetti, scusami. Sto sanguinando. Quello è un nemico? Sì. Quello è un altro nemico. Scusami. Signor Cechibri, cosa facciamo? Muore? Non li ho presi proprio per un cazzo. Ehi, la. Cosa era che un rumore bruttissimo? Allora, ne sono rimasti due. Muori. Assolutamente no. Ne sono rimasti tre. Io direi che forse dovete pensare più a quello che sta facendo questi rumori. Cosa dite? Non gliene frega nulla. Ci vogliono morti. Vai a terra. dobbiamo fare un salvataggio. Ok, quello è quello che succede quando entri nei campi di radiazioni. Munizioni di fucile, di mitraillatore? Ci vanno con me. Eh, siamo proprio al limite. Ora, mangerei qualcosa a questo punto. Facciamo così. So che non dovrei però. Cosa ci posso fare? Oiii. Divertiti in quel luogo. Non muore. Senti, ti ho già detto che c'è che bricchi a meno me lo dici, va bene? Dove sei? Ah! Ora. Abbiamo completato una missione? Vediamo cosa c'è detto il palmare. Forse qualcosa nel diario. Palmari trovati. Questa cosa la vediamo. Questi li vediamo poi. Adesso non voglio spezzare il ritmo dell'episodio per leggere. Anche perché abbiamo appena iniziato. Allora. Non so se tentarmi. La rasciata. Un po' pericolosa. Per l'ustre al nascondiglio. Il sangue di pietra è... Gravi. Per un attimo ho pensato a fossero radioattiva. Ok. Siamo a posto. Eh, siamo sovrappese. Anche tu hai ragione. Vediamo. Cosa potrei buttare? Potrei usare una vodka? Ah no. Io direi di buttare... Due pistole. Mi piacerebbe trovare qualcuno a cui venderle, però. Non si può avere sempre tutto. E' una persona quella? Assolutamente no. Quelle sì però. A chiunque possa sentirmi. Siamo stati attaccati da un gruppo di banditi. Arriva. Aiuto. Fratelli, aiutateci. Siamo nei guai. I banditi sono impazziti. Maledizione. C'è qualcuno qui vicino. Ci faranno fuori. Arrivo subito. Aspettate. Ehi. Tieni il kit, ti porto sul corso. Tieni. Allora. Quello è un nemico, no? Ok, è un'andata. Gli sono andati. Fate attenzione, che mi servite, Vivi. Almeno hanno le torce in testa. Quindi so dove sparare. Ci sono ancora altri banditi? Sembra di si stanno sparando. Non c'è più nessuno. No. Vediamo se possiamo venderle. Perché no? C'è ancora qualcuno? Anche tu? Non ho munizioni. Sarebbe male recuperarne qualcuna. Con chi ce l'avete? Ditela a me. Ragazzi, qua non c'è nessuno, eh. Poi. Non è male togli questo silenziatore, grazie. Non faccio meno danno, però. Aia. Cattivissimi. Dai! È caduto? Tranquilli, eh. Non mi serve una mano. Uno è morto. Ascolta, tanto colpi ne abbiamo a calci nei denti. Facciamo una arrasciata? Alla John Wick. John Wick mi fa... Un baffo. Fuori, cavolo. Hey! Smettiamola di fare deficienti. Uno. Quanti siete? Ragazzi! Non mi servirebbe una mano, eh? Ci svuotiamo l'inventario anche così. Voi continuate a stare là, eh. Come ho detto, non mi serve una mano. Ascoltate, facciamo così. Fatti vedere. Che stanno fine nei miei colpi? Come i migliori film americani. Mi sparano, mi avvicino sparandolo. Eh, quello ci faceva un po' pericolosa. Terra. Dai che è rimasto all'ultimo. Ti odio. Vuoi morire? Zacca fastidiosi. Sto raccogliendo, ma non so neanche se posso vendere. Torriamo dentro, dovremmo aver liberato tutto. Se fanno un commento sul fatto che loro... Non voglio parlarvi, sono molto scocciato. Tutta quella gente non era... Vabbè, era da uccidere perché doveva andare da quella parte. Però... Allo stesso tempo avrei potuto fare a meno in questo momento. Un attimo, prima vedo se posso vendere qualcosa di questa roba. Puoi dirmi qualcosa di interessante? Sai niente sull'agroprom? Io volevo andarci, ma gli altri hanno incominciato a prendermi in giro. Mi hanno detto che non c'è più niente di buono là. Che non ho ripulito tutto. Ragazzi. Ora ci sono rimaste anomalie. Sono rimaste solamente anomalie. Secondo te dicono sul serio o lo fanno solo per sfuttermi? Sono arrivato da poco. E do sempre rete a quello che mi dice la gente. Oggi sono molto... Molto chiacchieroni. E... E do sempre rete a quello che mi dice la gente del posto. Ma forse sono tutti d'accordo. Questi stronzi non perdono l'occasione per ridere le nostre spalle. Guarda. Io non volevo dirti, ma... Guarda. Sto ne avendo la metà. Mi dai tuoi rubli. Giusto? Sì. Due, tre. Perché no? Vuoi dirmi qualcosa di interessante? Nulla sta social rancando di sopravvivere o che neanche lui compra. Tu sei quello che è interessante. Seri. Che penso che sia seria. Grazie per l'aiuto. Ero davvero messo... Male. Ma tu che ci fai qui? Cerco informazioni su Strelok. Volpe mi ha parlato di te. Quindi sono qui per fare due chiacchiere. Ok. Ti ho mi aiutato gratis, quindi te lo dirò. Uno dei ragazzi, un ex scavatore chiamato Talpa, mi sta aspettando. Ha scavato il nascondiglio di Strelok. Ma non so se ci ho trovato qualcosa. Ecco le coordinate del nostro punto d'incontro. E lì che ti ho mandato io. A quest'ora mi staranno cercando, quindi è meglio che io scompaglia per un po'. Ecco un po' di soldi per il tuo aiuto. Ok. Incontra il grigio. Grazie per le informazioni. Sedermi qualcos'altro? Alcuni sopravvivono grazie alla discarica, raccogliendo rotami vari. Altri si addentrano nella zona dove si possono trovare oggetti molto migliori. Ma non tutti se la sentono, non è un posto da novellini. E se non hai munizioni devi proprio toglierti l'idea dalla testa. Mi stanno distruggendo il cervello. Posso comprarti un medikit, ma no. Ora. Vediamo un pochino. Questa è la missione principale, diciamo. Ora. Ah, devo proprio andare là, quindi. Alla grande. Prova la tuta. A questo punto la tuta noi ce la teniamo. Siamo sempre sovrappeso? Sì. Quindi, eh... Lasciamo il fucile più... Ehm... Rovinato, diciamo. Qualche pistola, che tanto ne abbiamo parecchie. I soldi non ci mancano. Voglio vedere una cosa. Quanto siamo? Ok. Classifica. Siamo a livello 94 per il momento. Statistiche. Stalker uccisi 900. Mutanti uccisi 197. Ma questi sono globale, penso. Io non ho ucciso 941 Stalker. Mi sono completate 24. Credo. Spero, spero. Spero, a meno che non sia... Prima della sua memoria, diciamo, prima che... Ehm... Cioè, dei ricordi precedenti, come posso spiegare. Ha ucciso 924 Stalker da tutto il tempo che sta facendo lo Stalker. non da quando ce l'abbiamo a noi. Ora, possiamo salire di qua. Perché no? Vediamo cosa c'è. Magari c'è qualcosa di interessante. Potrebbe anche non esserci nulla. Infatti, credo che non c'è più niente. Allora, facciamo così. Senza farci male, possibilmente. Salviamo. E direi che ci tocca proseguire, no? Sì. Verso la discarica. Abbiamo già piazza pulita. Perché abbiamo ucciso tutti. Quindi... Abbiamo guadagnato un po' di tempo. Sprecandolo prima, quindi... Tutto regolare. E si prosegue. Volevo vedere cosa ha questo... Ma perché no? No, basta. Munizioni di pistola ne abbiamo troppe. Mi servirebbero munizioni per il fucile. Non so se tornare indietro a vendere qualcosina. Bah. Andiamo alla discarica, dai. Vediamo un po' cosa succede. Andare a livello successivo? Assolutamente sì. E' un neutrale, sì. Ciao. L'esercito sta per distruggere il gruppo della talpa. Abbiamo bisogno di aiuto. C'è bisogno di mirarmi il fucile? Maledizione. E' una forza aerea d'assalto dell'esercito. Ok. Questi uomini sono lì. Cosa facciamo? Corriamo? Andiamo presto! Eh, sì! Un video? Aiuto! Quali sono i militari? C'era bisogno? Credo di sì a questo punto. Abbiamo, siamo solo armati, solamente armati di pistola noi perché non abbiamo munizioni. Del mitra. Vediamo un po' come va la situazione. Salviamo. Rasbologi, d'accordo. Recupera informazioni, la talpa. Stunk! Attenzione, attenzione, è lui. E' vero che c'erano anche Q&A in questo gioco? Completamente dimenticato. Eh, così non scherzano. Vedo che hanno anche un bel po' di... Questo esplode? No. Di solito le cose rosse nei giochi esplodono, ma non stavolta. Uno è morto. Altro è morto. Ah. Arrivo. Recuperando un po' di munizioni. Questo non è A. Questo ne ha. Hanno anche una K. Perché no? Sono sovrappeso, vero? Facciamo così. Andiamo a dare una mano prima che ammazzino tutti. E poi, eh, l'ultimo dopo. Siamo ancora sovrappeso in tutto questo? Arrivo subito, ragazzi, lo so. Solo che non potevo muovermi. Stanno morendo tutti. Scusami, ma sono un po' smirate le armi. Salva la talpa. E ha bisogno di cure? Fatemi capire. Dov'è? Sopra e sotto? Ciao. E lui? Ok. E figurati. Anche io, non preoccuparti. Siamo in due. Siamo sempre a termine le loro missioni. Dobbiamo uscire di qui prima che arrivi la task force. Andiamo. Conosco la strada. Ti seguo, allora. Mi servirebbero delle munizioni, però non per dire. Metal Chuck. Scusatemi. Mi sono un po'... Stavo guardando all'inventario. Stavo pensando di buttare un po' di munizioni della pistola perché mi sa che sono quelle che mi fanno un po' di peso. Nascondiamoci. Qua sotto? Tranquillo, eh. Non ci stanno cercando. Ma abbiamo fatto un metro e mezzo e stanno arrivando gli elicotteri. Scomodino. Ecco qua, lo sapevo che sarebbe successo. Direi che possono bastare 300 colpi, cosa ne dite? L'assicurante è quel rumore. Ok. Per un attimo ho creduto crashasse il gioco. Ah, che bello. Siamo qui dal mio migliore amico. Facciamo un salvataggio. Qua c'è uno dei miei incubi peggiori. Se ricordo bene. E' sparito? E' sparito nel nulla. andata da, bravi. non sparate a vicenda ok perchè no siamo al chiuso approfittiamone chi mi spara? ti ho visto assai eh è fatto malissimo e chi se l'aspettava? ok scusatemi ci sfruttiamo anche un po' inventario così non ci vedo niente scusatemi ragazzi mi dimentico sempre ok youtube scurisce anche il video i chiami stanno facendo malissimo cazzo piccolo ci stanno salvando allora no volevo prendere i pallettoni non l'arma un attimo un attimo a posto? vi siete sfogati? mangiamolo direttamente dalla ok come non detto è crashato il gioco consigli utili mai mangiare dalle tasche della gente allora salviamo non vale male che faccio quick save molto spesso deve essere una possibile rottura di balle ok mi ha cambiato le munizioni si scende torna indietro per il premio ma ragazzi in che senso qua c'è lui è l'uomo polpo ragazzi non ricordo dove spunta ricordo solo che c'è ed è fortissimo eccolo qua lo vedete lì lo vedete lo vedete avviciniamoci piano 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 cerchiamo di non fare il rumore oddio eh diventa invisibile si ok me lo ricorrevo molto più forte guardate che bello avete visto vi piace? portiamola alla luce no non posso trascinarlo shift no non posso trascinarlo quello la prima volta mi aveva fatto perdere cinque anni di vita che paura non erano finiti cazzo me la son tentata no non si vede perché c'è la mia faccia però c'è anche la foto sto sanguinando mi serve a qualcosa a questo punto andare di qua come facevi a saperlo potrei tornare indietro ovviamente però devo recuperare anche i documenti forse sono qua sotto non ne ho la più palida idea io non vorrei toccare neanche questo perché non so di cosa si tratta sinceramente non so dove sto andando come era il bullone che male mangiamo anche qualcosina così ci svuotiamo sentite c'è qualcuno qua va bene quindi ci sono segreti mi stai dicendo qua posso passare piccolosissimo ah ok siamo qui va bene e allora io andrei via e e e e lo sta traslando come ci hanno detto possiamo scappare da qui anche assolutamente no ma sei matto soffiando le cure facciamo attenzione quindi non posso più andare via da dove sono tornato ah no sono arrivato da qui che paura sì vediamo cosa succede grazie amico mi hai salvato la vita hai visto perché ci stai dicendo dicendo di nuovo la stessa cosa sì qui siamo al sicuro possiamo aspettare che il ride finisca sergi mi ha detto cosa stai cercando sì è qui da qualche parte sotto terra va bene non so dove sia di preciso potrei aver già fatto sì prudente e buona fortuna allora stai a sentire dicono che Strelok si aggirasse da queste parti per aggiunta il suo nascondiglio si trova da qualche parte sotto terra ho sentito dire che il suo gruppo ha proprio la propria base qui abbiamo cercato il nascondiglio ma non abbiamo trovato un cazzo di niente mi passo le informazioni sul nascondiglio magari sarei più fortunato di tutto quello che sappiamo come faccio ad entrare nello scantinato questa è una delle tante uscite che conducono la rete degli scantinati una volta entrato sarei solo non ho una mappa la rete enorme è intricatissima ok grazie per l'informazione le truppe si stanno dando un grande affare cercano scavano prima gli elicotteri volavano solo fino a Yantar per proteggere gli scienziati e trasportare provviste a macchinari adesso praticamente un'invasione i militari partono per strane spedizioni se ne vanno in giro sulle auto blindo li hanno visti all'agro però nella valle oscura non capisco proprio ok non sa nient'altro forse allora sono andato troppo in fretta devo forse prima prendere la missione trova il nascondiglio trova le informazioni su strelo qua abbiamo già ucciso praticamente tutti quindi comunque un bene proseguiamo di qua andiamo sul sicuro ricarichiamo le armi che sono entrambe scariche porca troia aiuto ci curiamo non avevo neanche visto il tempo ragazzi quindi io direi di chiudere qua questo episodio noi ci vediamo al prossimo da dove riprenderemo esattamente da questo punto ciao a tutti se il video vi è piaciuto iscrivetevi e lasciate un mi piace noi ci vediamo sempre qui sul mio canale con il prossimo video